La comparsa in Italia del credito cooperativo attraverso le prime casse rurali e artigiane a fine Ottocento è stata la prima reale e pratica opportunità per la gente comune di utilizzare i servizi finanziari. Il credito cooperativo ha permesso a milioni di piccoli agricoltori, artigiani, operai, imprenditori, professionisti, operatori del sociale e alle loro famiglie di ricevere fiducia, di ottenere credito, di migliorare la propria condizione di vita. I nostri predecessori hanno introdotto nell'industria bancaria i concetti e le prassi della responsabilità, dell'aiuto aiuto, dell'impegno collettivo a vantaggio del bene comune, riuscendo quindi nell'intento di includere migliaia di persone nella vita economica e sociale. Il socio è la nostra ragione d'essere. Il nostro scopo è rispondere alle sue esigenze finanziarie. Il cliente è la nostra ragione di fare e fare sempre meglio. La misura della loro soddisfazione è il nostro successo. Sono tante le iniziative che Bene Banca ha inoltre intrapreso in questi mesi. Abbiamo pensato ai giovani e per metterli nella condizione di acquistare il bene primario, la loro prima casa, abbiamo creato un mutuo rivolto ai soci con meno di 35 anni che può essere concesso anche ai lavoratori atipici e che prevede la possibilità di sospendere le rate per due volte per sei mesi nel corso dell'ammortamento e con una durata fino a 35 anni. Anche nel comparto piccole e medie imprese artigianato, una risposta importante al disagio di molte aziende arriva da parte di Bene Banca. È stato siglato un importante accordo con Confartigianato Fidi Cuneo che prevede in esclusiva per i soci lo stanziamento di un plafond di 20 milioni di euro per acquisto scorte, assunzione personale, finanziamento, trattamento di fine rapporto e immobilizzazioni immateriali. Sempre per i soci della banca, del sistema Confcommercio della provincia di Cuneo e del Confidi sono stati inoltre stanziati 10 milioni di euro per il 2015 e 2016. Le novità riguardano anche i privati, in quanto sono stati creati dei nuovi finanziamenti che danno la possibilità ai soci di ottenere fino a 25 mila euro con uno spread a partire dal 3,5%. Bene Banca nasce come cassa rurale e artigiana. Gli agricoltori e gli artigiani sono i padri fondatori dell'istituto ed è per loro che insieme ai soci sono concentrati gli sforzi maggiori. Li abbiamo ascoltati ed è emersa la forte esigenza di avere dei prodotti che prevedano un lungo periodo di pre-ammortamento, dove si pagano solo interessi, poiché quando un agricoltore effettua un investimento, i ritorni economici si avvertono nel medio-lungo termine. Ecco perché abbiamo creato un mutuo che prevede un periodo di pre-ammortamento che può essere esteso fino a 4 anni. Sempre rivolti alle nuove generazioni, è stato messo in atto un progetto a favore dei giovani meritevoli con 50 borse di studio riservate ai soci e ai loro figli che si siano particolarmente distinti per meriti scolastici. Bene Banca volta dunque pagina e guarda al futuro insieme ai suoi soci, con un nuovo spirito imprenditoriale e puntando il focus sul bene comune e il servizio alle persone. Un New Deal che nel più autentico spirito cooperativo e mutualistico impegnerà tutta la banca, dai vertici ai dipendenti e ai soci, per crescere insieme nei territori.